Benvenuti amici, io sono Salopimpos e oggi torniamo alla domenica horror con Evil Nun Perché è stato aggiornato nuovamente ragazzi, è stato aggiornato Allora, sono state aggiunte un po' di cose, tra cui una nuova area da esplorare e nuovi oggetti Quindi, allora, io intanto ho trovato sia una chiave gialla Che non avevo mai visto prima, quindi presumo sia per l'aggiornamento Sia, sia una botola da quella parte Ovviamente ho già aperto, per accedere a questa zona vi serve il piede di porco Quindi togliete i chiodi ed entrate qui dentro Quindi proseguite da qui e è stata aggiunta una nuova location Da cui si accede da questa grada Vediamo quello che c'è perché ancora non ci sono andate effettivamente Che c'è? Dei ruscelli e delle frecce Credo che qui non ci dobbiamo andare, giusto? C'è troppa corrente in quest'acqua Da lì ovviamente non ci potremo andare, da lì c'è un tubo Da qui è chiuso, quindi da qua, giusto? Me ne vado da qua? Ok Rallentiamo, vediamo se c'è qualche passaggio segreto Qui c'è un tubo Ah ok, qui posso salire direttamente nelle cose, perfetto Qui c'è un tubo ma non c'è niente, posso procedere da qua Allora, lì è rosso Qui, no 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 che fa, no 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 che fa, che fa, via 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 Ok, qui c'è una scala Posso salire? Vediamo che c'è qua Dove siamo qua? Un furgoncino Dove siamo qua? Siamo nel cortile fuori Vediamo questo furgoncino Magari me lo farei Chi è quello? Tizia Non mi fare del male Tizia non mi fare del male Che stai facendo? Che è? Stai caricando Sta caricando il furgoncino Tronco pieno di vestiti Posso prendermi? Se fosse vuoto potresti nasconderlo dentro Eh ma Ho chiuso proprio qua Dov'è? Ce ne sta andando? Si è andata proprio Meglio così Mi ha lasciato soldi Se ne è fregata bellamente della mia presenza Allora diamo un'occhiata Che c'è qua? Una porta Qui c'è un pulsante Ho paura a prendere i pulsanti Ah ok, la saracinesca Riapriamola va Se quella torna e trova la saracinesca chiusa si arrabbia con me Allora qua che c'è? Si nasconde Qua che c'è? Un armadietto Con la chiave gialla la posso aprire? Ok Aperto E che c'è qua dentro? Dipingere pentola E quindi? Che ci faccio questa vernice? Dipingere pentola È un ordine? Questa è aperta Dove andiamo a spuntare qua? Dove stiamo andando? Questa si apre? Non si preme Posso aprire? Porta della lavanderia Chiusa Aspetta C'è uno switch qua Premiamo Non si preme Perché? Non si preme Dobbiamo seguire il cavo? Non si sa Comunque Non possiamo aprirla Vediamo che altro c'è Saliamo È bloccato Tutto bloccato Niente Ritorniamo da dove siamo venuti È di là Che è successo? Adesso volo ragazzi Adesso volo Planiamo O le ali O le ali Ok Niente Andiamo di là Vediamo che c'è dall'altra parte Da qui dove siamo spuntati Lì c'è qualcosa Cassonetti Qua Non c'è altro Che ci faccio Con sto secchio di vernice Io qua Qua non c'è altro Qua non vedo niente Una fontanella Posso aprire l'acqua? No Non ha sete Niente Qua non c'è niente Niente di niente Un cancello Un cancello Chiuso Niente E che è tutta sta zona Enorme Per fare che? Tra l'altro hanno aggiunto la possibilità Di fare una chiamata Tramite il telefono Il problema è che dobbiamo trovare Il numero Quindi adesso Gironzoliamo un po' Vediamo Però vorrei capire Che fare qui dentro Vorrei capire Non c'è niente Comunque Gironzoliamo un po' Vediamo se troviamo Questo codice Questo numero Quanto meno E andiamo a fare questa chiamata Vediamo chi risponde Sì ma qua che è successo? La sua la sarà andata qua Mi ha lasciato solo soletto Andiamo a farci un giro Vediamo se troviamo questo Questo numero Io ho paura di cadere qua Allora andiamo di qua Buttiamoci Di qua c'è niente? No Andiamo di qua Cerchiamo questo numero Andiamo di qua Risaliamo Ok siamo spuntati Nuovamente lì Allora generalmente Questo numero Credo che si trovi In bagno In bagno In cucina su Quindi andiamo In cucina Vediamo un po' Che cosa troviamo Ma questa cosa Cosa di vernice Che ci dobbiamo fare Tizio dobbiamo dipingere La scuola Capisco che fa schifo Ma non è che la vuoi fare Con un barattolo di vernice Tra l'altro C'è anche l'albero di Natale Che carino Che carino Guardate che carino L'albero di Natale Ok Andiamo a vedere su In cucina Se effettivamente Troviamo Questo numero Di telefono Allora Qui non c'è Qui non c'è Quindi Qua non c'è Qua non c'è Questi non si aprono Ciao nun Ovviamente Sono in modalità fantasma Perché voglio capire Che cosa fare Cassetti 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 Levati nun Ok Che cos'è Scheda con numero di telefono Trovato Perfetto Apri qua Prendilo Abbiamo trovato Nun C'è però un cifra Castello a scato È giusto Nun Fattigli affarci tu E non romperai me Allora Il bidoncino L'abbiamo lasciato qua Quindi Dobbiamo Trovare il telefono Se non sbaglio Era nel Di nuovo il furgoncino È tornato Se non sbaglio Era nelle camere Giù Quindi Dobbiamo trovare Questo telefono Di qua E dobbiamo fare La chiamata Dov'era Dov'è Quanto meno Telefoni Dove siete Qua c'è un telefono Perfetto Posso chiamare Fatto Hai chiamato La macchina Della lavanderia È già in arrivo Buono E stai zitta Non rompere le scato È già in arrivo E quindi che devo fare Con la macchina Della lavanderia Ma era quella No Era quella Che abbiamo visto giù Non ti levi Che già mi hai rotto Le scato Torniamo giù Allora Eh Io sento un rumore Effettivamente Qua Il codice Lo possiamo buttare Mi prendo questa palla Che carina Questa palla Allora Eh Niente Andiamo di qua Ritorniamo giù Vediamo se è tornata Se è successo qualcosa Mi prendo il piede di porco Che se quella sua raccia Prova ad ammazzarmi Ammazzo lei A colpi di piede di porco Scendiamo nuovamente da qua Vediamo che c'è Attraversiamo nuovamente Qua Risaliamo Risaliamo Ok È tornato il furgoncino Perfetto Suora Ciao Che fai Niente Niente di particolare Niente di particolare Tronco più di vestiti Niente Che devo fare con quel bidoncino Questa si è aperta Porta della lavanderia Questa si è aperta No Tizia non mi investì Ma riesce ad investire La gente Aiuto Ma ci vedi Oh Ci vedi Faccia di capra Eh quindi Scappo con lei Aspettami tizia Aspettami che arrivo Aspettami 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 Edda Perché non mi hai aspettato Nella vita Adesso faccio il cattivo La chiamo La signora Prendo la vernice E gli sporco tutti i vestiti E vediamo che cosa fa Quanto sono cattivo Vediamo che cosa fa Può essere Perché effettivamente Lei è della lavanderia E io ho un barattolo di vernice in mano Dico Dico Secondo me sono cattivo Vediamo che succede Allora Vieni qua Vieni qua Direzioniamoci nuovamente lì Veloci 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 Troppo veloci Saliamo Ok La tizia è qua Perfetto Tizia Ti sporco i vestiti Dove sei? Sei andato Tronco Pieno di vestiti Devo sporcare Incasinato i vestiti Del baule Tizia Ti ho sporcato i vestiti Fa niente Tanto tu li lavi Oh i vestiti sono sporchi Ma se ne sta fregando Quello Se ne sta bellamente fregando Se ne sta bellamente fregando E che si fa? Li chiudo la sala cinesca Non si chiude Adesso si Rimarrai qui bloccata per tutta l'eternità E' pure intelligente E' pure intelligente Ma ti ho sporcato tutti i vestiti Te ne stai fregando Niente Se ne sta bellamente fregando A meno che succede qualcosa Quando l'erito Che è? Sta sporcando tutto quella Che sta facendo? Ah li sta consegnando sporchi Tizia ti sei accorta Che è tutto sporco di vernice Vero? Dico? Te sei accorta Niente Ne sta bellamente fregando Dove sta andando? Vengo con te Ti accompagno Vengo con te Aprimi la porta Apri Apro io Apri Signora Può aprire? Cortese Niente Che sta facendo? Ma che fai? Che fai? Che facciamo? A posto? Se sta andando Non abbiamo fatto niente Non abbiamo fatto niente Niente Anche se sono pieni di vernice Li sta andando a lavare Adesso li faccio incontrare nunna Adesso vediamo che fa Se li faccio incontrare La sua amichetta Vediamo come facciamo però Perché siamo messi in fantasma Facciamo rumore Ah intanto dobbiamo andare a rifare il Il numero Allora Componiamo nuovamente il numero Ok Fai cadere Poi ci serve qualcosa per fare rumore però Ciao Sì ma tu devi venire lì però Vieni qua Aspetta che prendo qualcosa Che devo prendere però qua Non c'è niente da prendere Riprendiamo la palla va Non credo che la palla faccia rumore però Ah ok Il piede di porco è qua Perfetto Per noi è il piede di porco Vieni qua il piede di porco Ma lei può venire qui? Non può venire qua? Chi lo sa? Chi lo sa? Magari facendo rumore viene lo stesso Mi sembra un po' difficile però Proviamo Allora Facciamo rumore qua Tizia Tizia ti prendo a sprangate Tizia Già hai fatto troppo Fai cadere Ok Più rumore Ancora sporchi sono i vestiti Sono entrato Me ne andrò con lei Ciao tizia Non si accorta Che mi sono infilato lì Allora stiamo scappando dalla scuola Cioè se me ne vado con lei Scappo dalla scuola ragazzi Dai tizia veloce però Prima che avviene nun Ho paura di quella porta lì dietro aperta Ho paura di quella porta Veloce tizia Veloce a caricare Vai Sforzati le braccine Sforzati Ok Ci abbiamo fatta Via dalla scuola Attraverso il parcheggio Motività fantasma No vabbè è vittissimo Via 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 Come se non ci fosse Cioè Più facile scappare così effettivamente Ma ci saranno delle conseguenze Per essere Per essere scappato Ha lasciato la scuola Bellissimo Ha lasciato la scuola Congratulazione Completato il gioco Se ti piace Vabbè Continua Continua Grande Torno al menu Come sempre bellissimo aggiornamento Sempre che aggiungono cose interessanti Quindi fatemi sapere Se ci sono altre cose Che dovrei sapere Di questo aggiornamento Fatemelo sapere Quindi nei commenti A sotto se vi piace Vi ricordo che vi consiglio Anche su Facebook Tutti i miei seguiti Tutti i miei social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto A prossimo video Oggi ritorniamo Su Minecraft Allora È arrivato il momento Di aprire i regali Ragazzi Han aggiunto I pacchetti regalo Su Minecraft Ovviamente Graduitamente E ci sono una marea Di cose ragazzi Ci sono una marea Di cose